La soglia delle 30 metri addosso davanti alla porta, perché nessuno mi ha dato pressione, è la stessa cosa al contrario. Anche uno che non ha i piedi buoni, se ha tempo e spazio per ragionare, ti prende fiducia. Hai visto fino adesso che hanno fatto? Hanno tirato pallati avanti, perché gli siete stati nel culo? A tutte le categorie, figuriamoci a questa. Non gli ha faticato niente, te ne hai faticato, te ancora meno. Se giochiamo come le altre volte, loro due che so i più in sera e notti, che trovano i ragazzini che colano, gli tirano il collo, vanno in difficoltà e fanno sempre pallo. Non avete fatto un fallo, perché nei tempi gli stavate nel culo. Gli facevate scarica dietro e avevate la copertura, avevate sereno. Cazzo, non è sempre fattibile, ma l'idea del progetto deve essere quello sempre, contro chiunque, pure contro messi. Perché cazzo sarà diverso se gli ammessi che sto nel culo e comunque cazzo, fallo girare, girare, gira, e comunque do tempo agli altri di prendere la posizione per me, di raddoppiare. Ma se a me si lo aspetta un lato, qua, e la stoppa a me putta, sarà peggio che a me putta e fa' come gli pare e ti fa' un culo così. Te so contro tutti, qui ancora di più. Perché non ci so quali da eccessi. Ok? Dico niente altro perché è stato perfetto con il primo tempo, dovete solo ragionare in pazzenza. E non inventarvele, siccome stai vincendo da fermo, tu stava a dire, no, a far questo. No, no, è lì che si migliora, continuando a fare quello che abbiamo fatto fino a quel momento. Se no ci cassiamo i coglioni da scusare. Forza, eh.